Siamo presso il Tennis Club di Perugia e in mia compagnia ho il Vice Presidente e il Dottor Massimo Balsana. Dottor Balsana, diciamo ai nostri telespettatori il rapporto che c'è fra il Tennis Club Perugia ed Unogas Umbria S.P.A. Sì, buonasera. Unogas S.P.A. è una nostra vecchia e cara amica. Tutte le nostre forniture energetiche sono ad opera di Unogas e Unogas c'è sempre vicino come sponsor in ogni manifestazione. Tutte le manifestazioni sportive che ospitiamo portano in qualche modo la sponsorizzazione e il marchio di Unogas. In particolare a settembre avremo il torneo forse a noi più caro, più caro a questo circolo, a tutti i soci di questo circolo che è il Memorial Dante Marcarelli. Per chi non lo sapesse, non lo avesse conosciuto, Dante Marcarelli è stato il nostro maestro di tennis storico, colui che è stato il maestro di tennis di questo circolo per 45 anni, che ha messo in campo tutti noi e soprattutto ha messo in campo dei campioni, compreso Francesco Cancellotti e Michele Fioroni, che sono il fiore all'occhiello del tennis umbro per i risultati raggiunti, specialmente Cancellotti che è stato un giocatore tra i primi venti del mondo, quindi risultato veramente di enorme importanza e di enorme prestigio. Bene, Dante Marcarelli oltre a questa capacità professionale indiscussa e indiscutibile è stato per noi un affetto, è stato per noi un uomo che abbiamo conosciuto fin da bambini, ci ha messo appunto in campo, ci ha fatto giocare a tennis, ci ha appassionato al tennis e quindi lo ricordiamo tutti con grande affetto e questo torneo di seconda categoria, tra l'altro è un bellissimo evento anche dal punto di vista tecnico agonistico, è il nostro modo per ricordarlo e per omaggiarlo. Ecco, Uno Gas è lo sponsor unico, principale di questo torneo e per questo gli siamo particolarmente grati. Ringraziamo il vicepresidente del Tennis Club Perugia, il vicepresidente dottor Massimo Balzana. Avvicinatevi al tennis, avvicinatevi al Tennis Club Perugia.